Con nota ufficiale datata 19 febbraio 2020, l'Arcivescovo della Diocesi di Salerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, d'intesa con il parroco della Cattedrale Don Michele Pecoraro, ha promulgato l'anno matteano, come si legge nella nota, poiché la liturgia di quest'anno è incentrata proprio sul testo dell'Apostolo Evangelista Matteo, le cui spoglie riposano nella Cattedrale consacrata nel 1084 dal Papa Gregorio VII, di cui proprio quest'anno ricorre anche l'anniversario dei mille anni dalla nascita. La Chiesa Salernitana è chiamata a vivere un anno speciale di raccoglimento, di meditazione e di preghiera attorno alla figura di San Matteo. Come continua ancora la nota, attraverso iniziative di preghiera e di riflessione, momenti culturali e di creatività artistica, pellegrinaggi e celebrazioni particolari, vorremmo far sì che quest'anno si intensifichi la nostra devozione al Santo Evangelista, quale testimone di quella chiamata particolarissima a Lui rivolta dal Signore, ma attraverso di Lui indirizzata anche a ciascuno di noi.